Ritorna all'appuntamento con la poesia. L'Associazione Culturale Viva la Mamma e Villa Anna Eventi vi invitano alla visione della dodicesima edizione del premio di poesia e viva la mamma. Nell'incantevole scenario di Villa Anna vivremo le più belle emozioni che solo la poesia, la musica, la danza sanno dare. In onda mercoledì 12 agosto ore 21 su Canale 74.